Ciao amici benvenuti nel mio canale. Ti sarei grato se ti piace iscriverti al canale prima di iniziare il video. Non dimenticare di attivare le notifiche per le ultime notizie. Siamo alle solite. Ricordate quando Kanyaman, in un duro sfogo su Instagram, denunciava l'aggressione che deve subire ogni donna che viene associata a lui, perché accettata malvolentieri da alcune delle sue fan? Beh, a quanto pare ci risiamo. Greta Ferro, attrice abruzzese che in queste settimane si trova a Budapest, in Ungheria, impegnata sul set per le riprese di Il Turco, la nuova serie TV internazionale con protagonista proprio Yaman, sembrerebbe essere finita nel mirino di alcune seguaci del divo turco. Rabrividisco ogni volta che leggo o che sento donne che parlano male di altre donne, che sminuiscono altre donne. Che tristezza infinita, neanche ne avete consapevolezza ha scritto l'afferro sfogandosi su Instagram. Evidentemente, come è accaduto più volte in passato, l'attrice è stata raggiunta da messaggi poco carini nei suoi confronti. Il motivo? Sempre lo stesso, è la nuova partner cinematografica del divo turco, ed è finita inevitabilmente per essere risucchiata dal cosiddetto fenomeno Kanyaman. La stessa Simona Cavallari, presente nel cast della fiction Viola come il mare, nel corso della sua ospitata Verissimo, ha anche parlato di quanto sia stato difficile muoversi liberamente quando era in compagnia dell'attore turco, quando sono andata a fare la prima prova costume e ho pubblicato sui social la foto fuori dal camerino di Viola come il mare, il mio Instagram è scoppiato. Mi scrivevano persino dal Sud America. Ho una lista di persone che mi chiedono foto, video, ha raccontato l'attrice. È davvero un fenomeno. I primi giorni a Palermo, era anche complicato girare con lui. Le fan di Kanyaman hanno subito inviato messaggi di incoraggiamento a Greta Ferro, spiegandole come ciò che le sta capitando sia ormai una triste consuetudine, e che inevitabilmente dovrà abituarsi a fare i conti con il giudizio degli odiatori da tastiera. Grazie. 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 Grazie.